Ciao a tutte, questo è il mio primo video, sarà un tutorial sui toni del marrone sul color carne con un po' di brillantini, è un trucco che scelgo comunque ogni giorno, va benissimo per la scuola, va benissimo per l'università, per il lavoro, per l'ufficio e niente, se vi piace seguitelo e ciao! Applichiamo la base, questa è Bear Study della MAC, un Paint Pot, se non sapete cosa è una base me lo chiedete e vi risponderò tranquille, applichiamo la base, non troppa, soltanto sulle nostre palpebra, sfumandole bene, altrimenti si creeranno le pieghette. Quello che ci rimane sull'occhio lo mettiamo anche nelle parti inferiore, perché applicheremo dell'ombretto anche qui sotto. Come prima cosa applichiamo questo ombretto qui, si chiama Honesty della MAC, e lo applichiamo soltanto sulla prima parte della nostra palpebra, dopo di che prendiamo Wood Wing che è un altro colore della MAC, scusate, questo qua, sempre con il nostro, scusate, pennello 239 della MAC, questo è della collezione Lockity, ma vendono anche il pennello in versione grande, prendiamo Wood Wing e lo applichiamo sul resto della palpebra, sfumando bene dove due colori si incontrano, per evitare stacchi di colori non proprio belli. Dopodiché prendiamo con il nostro pennello 222 della MAC, questo qua è un po' sporco ma insomma, se vogliamo, prendiamo il colore Mulch, della MAC, questa qua, mettiamo il pennello e andiamo ad applicarlo prima nell'angolo del nostro occhio e poi con movimenti circolari entriamo nella piega. Questi sono colori molto neutri sul toni del marrone, quindi non abbiate troppo paura se sbagliate, perché comunque non si vedrà moltissimo, come ad esempio un nero. Ok, lo prendiamo ancora un pochino e lo applichiamo anche un pochino lungo la parte superiore delle ciglia. Continuiamo con movimenti circolari, state attenti se avete l'occhio piccolo o più piccolo del mio, cioè se non avete molto spazio tra l'occhio e il sopracciglio, state attenti a non andare troppo in alto, perché l'ombretto che mettete nella piega non deve mai arrivare fino al sopracciglio. Ok, dopodichè prendiamo il nostro pennello 219 della MAC, questo qua, si chiama Pencil Brush perché appunto ricorda la forma di una penna, di una matita. Prendiamo sempre il colore Mulch, che è quello che abbiamo usato per la piega, e andiamo ad applicarlo sulla parte inferiore delle nostre ciglia. Prendiamo ancora un po'. Ok. Stiamo attenti a non lasciare stacchi tra questa parte di colore, questo qua. Il colore è uguale, quindi si può tranquillamente sfumare e portare sotto. Ok. Dopodichè prendiamo con il pennello da highlighter 227 della MAC, questo qua. Se avete altri pennelli di un'altra marca potete usarne anche uno solo perché tutto quello che sto facendo io non ha importanza, è l'importante risultato. Prendiamo il colore Shroom della MAC, questo qua, che è un ottimo highlighter, un colore chiaro, un colore carne. E lo applichiamo sotto il nostro sopracciglio per dare dimensione al sopracciglio. E poi sempre con questo, anzi questo qua. E vado ad applicarlo sull'angolo dell'occhio. In questo modo qua. Ok. Abbiamo finito con i libretti. Poi prendiamo, io uso il Feline della MAC. Ok. Io uso il Feline della MAC e un eyeliner. Questo è l'edizione limitata, ma potete prendere un qualsiasi altro eyeliner nero, liquido, che sia quello che volete, quello con cui vi trovate meglio. E lo applichiamo. Allora, se non sapete applicarlo bene, vi consiglio di passarlo lievemente proprio sopra la linea delle vostre ciglia. State attente, piuttosto fate magari una linea più sottile e poi ripassatela, se vedete che è troppo sottile, piuttosto che farla subito troppo grossa. Ok, adesso possiamo passare al mascara. Io uso il Blush Lush della MAC. Non si direbbe che la MAC è la mia marca preferita, lo so. Ok, il mio è un po' secco, devo comprarmi un altro. e con movimenti a zig zag, lo passiamo sulle ciglia. Ok. Poi con gli occhi abbiamo finito, poi passiamo ai blush. Io al momento ho questo, il Denti. È un blush minerale della MAC. È un colore abbastanza neutro, va con tutti i sottotoni di pelle. Se lo vediamo. Lo passiamo sui pometti delle nostre guance e lo portiamo fino a su. L'applicazione dipende anche molto dal pennello che avete. Io ad esempio questo qua ha delle fibre sintetiche e devo fare qualche passata in più che il calore riesca, si riesca a vedere. Ok. Ok, altra parte. Mi raccomando una cosa, quando mettete il blush portatelo sempre fino all'attaccatura dei vostri capelli, altrimenti si vedrà lo stacco e si riuscirà a capire, insomma, che non è un colore naturale ma si verrà che comunque è intuficiale, non vogliamo questa cosa qua. Poi l'ultima cosa è il lucida labbra o rossetto. Io in questo caso uso il Baby Sparks, sempre per la MAC. È un rosato, un rosa Barbie con dei brillantini. ok. Il nostro trucco è finito, spero che vi sia piaciuto. Se avete domande, richieste, qualsiasi cosa fatemelo sapere. Scrivetemi nei commenti sotto se il trucco vi è piaciuto, se voi, come me, preferite i colori sul marrone. Scrivetemi quali sono i vostri colori preferiti di ombretto, come vi truccate di solito, nel senso che tipi, che sfumature usate. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi. Il tasto per l'iscrizione dovrebbe essere di là, se non sbaglio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.